Uè uè uèè 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 c'è a fare purtroppo i miei più accaditi fan su instagram che saluto Davide Luigi e adesso vogliono fare una dedica all'amato amico Gennaro ah che vanno facendo uè Ma ci capite che vi piace il duo c'è stato pari anni però con il capello all'apino Daniele voglio perché a voi vi piace pinucce e a me mi piace il blu se tutte le vuole già cantare Vai gliela faccio proprio perché sono i miei più accaditi fan A fuoco e fiamma a fuoco e fiamma sempre Radio Paco Grisci la radio che vi ascolta E' sempre a fuoco e fiamma la situazione ragazzi proprio mi stanno fa 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 ancora tutto ma ancora con il martello Puppo Davide stai calmo fratello Facciamo prima questa e poi dopo ragioniamo perché ora non pensate che è il suo jukebox Comunque ragazzi questa canzone è per voi però la devo alzare Apocondria anche se non è l'auspicio di adesso Non stanno in apocondria stanno in allegria Apocondria mi scoppio ogni minuto a mette Con un'altra cosa che mi stanno in a mette E' sempre a mette Con un'altra cosa che mi stanno in allegria E' sempre a mette E' sempre a mette Il suo che mi stanno in allegria Allora, a mette E' sempre a mette Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti